Nonostante le nuove tensioni su unioni civili e immigrazione che scuotono la maggioranza, Enrico Letta non abbandona il suo ottimismo. È convinto che una soluzione si troverà, come ha chiaramente lasciato intendere ieri sera nel corso dell'intervista al Tg1, incoraggiato anche dalle buone notizie sul fronte economico. Lo spread, calato sotto quota 200 per la prima volta in due anni e mezzo, e la fiducia dimostrata dai mercati. È il frutto di un grande lavoro e del sacrificio degli italiani, ha detto il Premier, convinto che adesso l'Italia poggia su basi più solide. Ora abbiamo risorse disponibili per il lavoro e per le imprese. Due dei punti su cui si concentrerà l'azione di governo nei prossimi giorni in vista dell'ormai famoso patto di coalizione, cioè il nuovo accordo di maggioranza che Letta vuole assolutamente chiudere entro la fine di gennaio. Il Premier però dovrà prima spazzare via tutte le nubi che si addensano all'orizzonte, che riguardano i temi delle unioni civili, e della revisione della legge bossi fini sull'immigrazione. Temi su cui il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, ha avanzato le sue proposte, ma sulle quali il leader del nuovo centrodestra, Rangelino Alfano, gli ha sbarrato la strada e si dice pronto a dare battaglia. Bisogna prima pensare alle famiglie e alla sicurezza degli italiani, ha detto il Vice Premier, che viene difeso da tutto il centrodestra, dall'Udc a Forza Italia. Il governo Letta è sempre più un governo di sinistra, guida Renzi, ius soli, porte spalancate ai clandestini, matrimoni gay. Queste le priorità del PD e chi non condivide questa agenda ne traga le conseguenze, dichiara oggi il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che chiede di tornare subito alle urne. Anche perché, aggiunge il capogruppo alla Camera, Renato Brunetta, quello dello spread continua ad essere solo un imbroglio perché è diminuito per il riequilibrio del mercato finanziario e non per i meriti del governo. Insomma, toccherà al Premier fare da pacificatore tra Renzi e Alfano con incontri faccia a faccia che entreranno nel vivo la prossima settimana e che saranno centrati anche sui temi delle riforme della legge elettorale. Altro argomento caldo che, secondo il Premier, deve rientrare nel patto programmatico per il 2014 e quindi nell'accordo fra le forze di maggioranza che sostengono il governo e che esclude qualsiasi altra maggioranza con le opposizioni. Anche su questo fronte Letta si è detto fiducioso di poter trovare un accordo. L'ipotesi delle due maggioranze, una che tiene in piedi il governo e l'altra che fa la riforma elettorale non regge, conferma Fabrizio Cicchito del nuovo centrodestra, perché se c'è una maggioranza diversa dall'attuale è evidente che si va alla crisi di governo.